Presentati questa mattina a San Domenico Maggiore, alla presenza fra gli altri del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, alcuni dei progetti di lavoro attuati col primo bando per la valorizzazione dei beni pubblici dedicato ai giovani per avviare attività del privato sociale. Noi siamo a San Giovanni a Teduccio, in una scuola, la ex scuola Giotto Monti, che non poteva essere più utilizzata come edificio scolastico, e lo abbiamo trasformato in un centro per le arti della comunità, un centro di produzione e promozione artistica culturale, al quale abbiamo dato un nome adesso che è Art33, perché è dall'articolo 33 della Costituzione che sancisce il diritto al libero insegnamento delle arti, quindi la libertà di tutte le arti, ed è un centro che accoglie i giovani che vogliono fare arte e ci lavorano dentro dei giovani che vanno dalle maestranze tecniche al supporto logistico, organizzativo e artistico. Oggi c'è un team appunto fatto di tecnici, di addetti stampa, addetti comunicazione e addetti multimediali che lavorano a diverse iniziative diciamo volta per volta. L'idea è quella di consolidare sempre di più queste esperienze e quindi di poter offrire sempre più opportunità di lavoro a sempre più ragazzi. Accolto da decine di ragazzi e da una contestazione in piazza, il ministro Poletti ha ascoltato riflessioni e testimonianze e anche critiche di alcuni lavoratori campani sull'occupazione e sulla precarietà. Sono stati illustrati alla platea tre dei progetti realizzati negli spazi assegnati col primo bando che ha dato l'opportunità di utilizzare strutture pubbliche per creare occasioni di lavoro in diversi luoghi della città. Nel corso della tavola rotonda si è parlato anche di servizio civile nazionale. Ho visto istituzioni dal Dipartimento nazionale al Comune e alla Regione insieme al mondo delle associazioni e ai giovani che hanno costruito progetti che hanno dato valore al patrimonio pubblico, che hanno dato opportunità di lavoro, che hanno affrontato tematiche sociali. Quindi se vogliamo la conferma di un'intuizione. Noi abbiamo bisogno di specialismi, abbiamo bisogno di che ognuno rispetti le proprie competenze e responsabilità ma soprattutto abbiamo bisogno di lavorare insieme. Noi dobbiamo promuovere nuove opportunità di occupazione, che vuol dire sviluppo, che vuol dire investimenti, che vuol dire imprese che credono nel futuro e danno opportunità. E poi naturalmente nelle situazioni di difficoltà e di crisi bisogna discutere con gli imprenditori quali devono essere e possono essere i modi per affrontare queste situazioni, per eliminare o ridurre al minimo i sacrifici o i problemi per i lavoratori, perché sappiamo che ogni posto di lavoro che perdiamo è un dramma per una persona e per una famiglia. Un nuovo bando è stato pubblicato il mese scorso, con scadenza il prossimo 8 febbraio. Per assistenza e approfondimenti sui beni disponibili, il Comune ha aperto uno sportello al pubblico attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Tutte le informazioni e il bando su www.comune.napoli.it slash napoligiovane. Nel 2013 c'è stata un'iniziativa da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, grazie alla quale giovani hanno potuto ristrutturare, rifunzionalizzare degli immobili abbandonati per dare vita a dei progetti sociali, di impresa culturale e artistica legate alla mobilità sostenibile e all'accoglienza delle persone con svantaggi. Questa iniziativa non è finita. Oggi abbiamo festeggiato il secondo bando predisposto dal Dipartimento con la presenza del Ministro, con una giornata intensa di appuntamenti. Abbiamo raccontato come delle ex scuole abbandonate a San Giovanni o ex locali comunali abbandonati nella Galleria Principe oggi danno lavoro a dei giovani e hanno rivitalizzato e dato valore alla città di Napoli. Ci prepariamo quindi al secondo bando. Abbiamo presentato due grandi novità, grazie all'assessorato al patrimonio, a Ciro Borrello, che ha promosso questa iniziativa insieme a me, uno sportello della Napoli Servizi e una mappatura di tutti i beni comunali che possono essere richiesti dai gruppi di giovani per candidarsi a questo bando. Grazie a tutti.